ciao ragazzi buongiorno 4 febbraio 2024 andiamo a fare andiamo a fare un calamaro grazie a tutti oggi è pieno di pescatori qua io tra l'altro ho scelto una postazione scomodissima se non cado in acqua prima di prendere il calamaro vediamo dai venite con me non fate casino che c'è gente che pesca ecco ragazzi ecco ragazzi vi ho detto che c'è cazzo questo è grosso ragazzi questo è grosso cazzo ragazzi questo è grosso cazzo ragazzi 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 questo è grandissimo sapete che non sono uno che esagera guardate questo è grande ragazzi puttana miseria ragazzi ho tirato fuori una bestia aspetta che ve la faccio vedere ragazzi non sto scherzando eh questo l'ho sentito di brutto porca paletta cazzo 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 caz si si è grosso fra aspettate ragazzi perché sono in una postazione di merda cado in acqua se avete pazienza lo prendo ragazzi ma cos'è sta roba qua ragazzi questo è il buongiorno del 4 febbraio ragazzi questo è bello ragazzi